Salve e bentornati a Incipit. Il libro di cui vi parlerò oggi, che è Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, è un libro molto particolare. Intanto è un libro che ci fa ripiombare ai giorni nostri, si parla di complotti veri e presunti, soprattutto presunti, vengono addirittura costruiti dei complotti falsi, naturalmente. Umberto Eco era molto scettico nei confronti dei complotti e del complottismo. Scrive questo romanzo, Il pendolo di Foucault, che poi è uno strumento che serve a dimostrare che la terra è rotonda, è sferica. Le avvertenze per leggere questo libro è anche avere vicino un dizionario, perché spesso Eco si diverte a giocare con le parole e trova delle costruzioni molto particolari, molto divertenti anche linguisticamente parlando. Ma leggiamo l'Incipit. Fu allora che vidi il pendolo. La sfera, mobile all'estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà. Io sapevo, ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell'incanto di quel placido respiro, che il periodo era regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel numero pi greco che, irrazionalmente alle menti sublunari, per divina ragione, lega necessariamente la circonferenza al diametro di tutti i cerchi possibili, così che il tempo di quel vagare di una sfera dall'uno all'altro polo era effetto di un'arcana cospirazione tra le più in temporali delle misure, l'unità del punto di sospensione, la dualità di una stratta dimensione, la natura ternaria di pi greco, il tetragono segreto della radice, la perfezione del cerchio. Ancora sapevo che sulla verticale del punto di sospensione alla base, un dispositivo magnetico, comunicando il suo richiamo a un cilindro nascosto nel cuore della sfera, garantiva la costanza del moto, artificio disposto a contrastare le resistenze della materia, ma che non si opponeva alla legge del pendolo, anzi, le permetteva di manifestarsi, perché nel vuoto qualsiasi punto materiale pesante, sospeso all'estremità di un filo inestensibile e senza peso, che non subisce la resistenza dell'aria e non facesse attrito col suo punto d'appoggio avrebbe oscillato in modo regolare per l'eternità. La sfera di rame emanava palli di riflessi cangianti, battuta com'era dagli ultimi raggi di sole che penetravano dalle vetrate. Se come un tempo avesse sfiorato con la sua punta uno strato di sabbia umida disteso sopra il pavimento del coro, avrebbe disegnato a ogni oscillazione un solco leggero sul suolo. Il solco, mutando infinitesimalmente di direzione a ogni istante, si sarebbe allargato sempre più in forma di breccia, di vallo, lasciando indovinare una simmetria raggiata, come uno scheletro di un mandala, la struttura invisibile di un pentaculum, una stella, una mistica rosa. No, piuttosto una vicenda, registrata sulla distesa di un deserto, di tracce lasciate da infinite erratiche carovane. Una storia di lente e millenarie migrazioni. Forse così si erano mossi gli Atlantidi del continente di Mu in ostinato e possessivo vagabondaggio dalla Tasmania all'Agroinlandia, dal Capricorno al Cancro, dall'isola del Principe Edoardo alle Svalbard. La punta, ripeteva, narrava di nuovo in un tempo assai contratto quello che essi avevano fatto dall'una all'altra glaciazione e forse facevano ancora, ormai i corrieri dei signori. Forse nel percorso tra le Samoa e la Nuova Zemlia, la punta sfiorava nella sua posizione d'equilibrio, Agartha, il centro del mondo. E intuivo che un unico piano univa Avalon, l'iperborea, al deserto australe che ospita l'enigma di Ayers Rock. In quel momento, alle 4 del pomeriggio del 23 giugno, il pendolo smorzava la propria velocità a un'estremità del piano d'oscillazione, per ricadere indolente verso il centro, acquistare velocità a metà del suo percorso, sciabolare confidente nell'occulto quadrato delle forze che ne segnava il destino. Come vedete, è abbastanza argigogolato lo scritto di Eco che in qualche modo lo fa quasi apposta per rendere il libro più godibile, per certi versi, è anche un po' più complicato, ma imparare nuove parole e stare lì appunto con il vocabolario vicino non fa mai male. L'avventura è leggere questo libro, perché è veramente un'avventura, ci vuole parecchio, perché sono tante pagine, sono circa 700 pagine, però ne vale veramente la pena. Ve lo consiglio, il pendolo di Foucault di Umberto Eco. A presto. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto.